John Bourne ragazzi, John Bourne e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti, oggi sono on fire, è il terzo video che vi porto per oggi, avevo un sacco di cose da dire, oggi vi ho parlato dell'acquisto da parte della Juventus per Di Cabal, vi ho parlato della conferenza di Tiago Motta, oggi ve l'avevo promesso da fare un resoconto delle amichevoli che si sono giocate tra le big italiane e le altre squadre, e cioè vado a parlarvi delle amichevole dell'Inter, delle amichevole del Napoli e delle amichevole della Roma, tre amichevole che mi sono recuperato, insomma, a spizziche e bocconi per cercare di darvi un'infarinatura di quello che ho visto e che ci tenevo a parlarvene, me l'avete chiesto in tantissimi, quindi alla fine ho scelto di farlo, però adesso che mi state seguendo vi dico, lasciate una bordata di mi piace qui sotto, cioè voglio vedere proprio che ogni mi piace, ogni views è un mi piace, se volete che vi porto le altre amichevole, cioè appena c'è una nuova amichevole, subito dopo video di un'italiana, quindi mi raccomando, se tipo l'Inter, Milano, la Juve, la Roma, la Lazio, il Napoli, l'Atalanta, la Fiorentina, il Bologna, fanno della Lazio, fanno delle amichevoli, se volete subito il video lasciate mi piace qui sotto, voglio vedere proprio un dislivello tra mi piace e visualizzazioni, quindi mi raccomando, fatemi vedere questa grande voglia, se volete che ci sia impegno, perché a me un po' mi pesa guardamela, un po' mi piace, un po' mi pesa, quindi mi raccomando, voglio vedere questa roba qua. Detto questo, vi dico, partiamo dall'Inter, partiamo dall'Inter, partiamo da Inter-Lugano, l'Inter che vince 3-2 contro il Lugano, ormai lo sapete è tradizione che l'Inter inizi contro il Lugano, ogni volta, ogni anno, il primo test amichevole è contro la compagine svizzera, iniziano sempre contro di loro, adesso è anche buon ospicio dopo che hanno vinto lo Scudetto, ripartire contro il Lugano, e c'erano pochi spunti di riflessione in partenza, e invece devo dire che la grande sorpresa è stata che di spunti di riflessione, e lo ammetto con grande sincerità, ne ho avuti parecchi. Guardando la partita dell'Inter ho avuto parecchi spunti di riflessione, ho un po' pensato mentre guardavo Inter-Lugano, dicevo, vabbè ma quest'anno l'Inter ci avrà poco hype intorno sulla carta, perché comunque ha appena vinto lo Scudetto, perché non ha acquistato praticamente nessuno, e invece ci sono tre giocatori, di cui non abbiamo mai parlato in ottica Inter, che secondo me hanno catalizzato la scena. Il primo è Martinez, Joseph Martinez, non è che abbia catalizzato la scena a Joseph Martinez, ma giocava a titolare, era l'unico acquisto pagato, che giocava a titolare in porta, e certo giocava a titolare perché Sommer fa le vacanze dopo l'Europa con la Svizzera, il titolare resta Sommer, però avevo voglia di vederlo, e va detto che comunque non ci hanno dato modo di vederlo praticamente mai, ogni volta che avevamo modo di vederlo lui non poteva fare nulla, e l'unica grande parata della partita l'ha fatta di Gennaro, il terzo portiere, ex Gubbio, quando è entrato, per il resto veramente poca roba, quindi Martinez non l'abbiamo visto mai, però l'altra cosa che poteva in qualche modo destarmi un po' di interesse, era la coppia ad attacco, il tandem Correa-Taremi, ecco Taremi era l'altro acquisto, quello che era appena arrivato a parametro zero dal porto, ed ero molto curioso di vederlo, ora chiaramente sottolineiamo una cosa, il livello era bassissimo, bassissimo, cioè nel senso i ritmi erano bassissimi, è normale che sia così, molti titolari non ci sono, sono tutti in vacanza dopo l'Europeo, chi è rimasto sono giocatori di un livello medio-basso, oppure giocatori che sono di nazionali tipo Taremi, che l'Iran non fa l'Europeo chiaramente, perché è Iran, se no sarebbe in vacanza anche Taremi, e poi soprattutto siamo a inizio luglio, cioè siamo a metà luglio adesso, però siamo ai giorni iniziali di luglio, questo ci porta ovviamente a vedere una squadra, l'Inter ad esempio, ma tutte le altre anche, che giocano con dei ritmi così e colà, no ritmi bassini, eppure Taremi è stato il vero e proprio mattatore della partita, è partito facendo un assist bellissimo per Correa, veramente bellissimo, lì ragazzi Taremi è bravo, sia nell'anticipo della palla, perché manda lungo il giocatore andando ad anticipare il, andando, ma che è sto foglio? Ah niente praticamente, andando ad anticipare il pallone, ma poi sbaglio io, ho la telecamera, scusate, è un po' bassina, no, così è un po', vabbè uguale dai, va bene uguale, e dopo aver anticipato il giocatore, con una facilità disarmante, manda in porta Correa, ecco, questa è una situazione secondo me da non sottovalutare, no? Questa capacità di Taremi, qua vediamo tutto di Taremi, vediamo l'anticipo, vediamo il modo di allargarsi, e il modo in cui indirizza l'attaccante in porta, secondo me sono cose tutt'altro che da sottovalutare, sottolineo anche come Taremi, io l'abbia visto in forma smagliante, a livello fisico ragazzi, veramente in forma smagliante devo dire, cioè l'ho visto giocare con una, cioè come se, non è che sia mai stato grasso, no? Però boh si vede forse che era la divisa del porto, a farlo sembrare un po' più incicciottito, però l'ho visto magro, come uno stecchino, cioè come se avessi dato il 200% per arrivare al migliore delle forme per il grande debutto, no? Il grande poi, la prima amichevole stagionale, ma era veramente tanto asciutto, ed è un aspetto molto positivo che non può essere sottovalutato. Detto questo, l'Inter dopo il gol del vantaggio che arriva da Correa, vabbè anche Correa insomma fa un tocco e gira intorno, ci mettono due ore a fermarlo, ma su quel bel pallone di Taremi c'è un momento di down completo da parte dell'Inter, perché? Perché prima l'Inter concede un calcio di rigore che porterà al pareggio, su un errore, una fase difensiva ragazzi davvero brutta, in cui succede di tutto, i giocatori mettono continuamente il pallone in aria, vanno avanti tutti che cascano, nessuno che capisce dove è diretto il pallone, nessuno che riesce a bloccarlo, non ho ben capito perché l'Inter fosse schierata in quel modo lì a livello difensivo, però reputo che fosse schierata veramente veramente male, e poi anche il gol del 2-1, perché poi il Lugano va avanti addirittura, la ribalta la partita, è un gol dove tutta la difesa è ferma, cioè Martinez non può nulla, ma perché il giocatore gli arriva proprio uno contro uno, con tutta la difesa dell'Inter bloccata, ferma, che non fa nulla, e c'è la rete del vantaggio della squadra svizzera. Boh, boh, cioè la difesa, ok era, mi pare Fontanarosa, Fontanarosa, Bissek, che tra l'altro gioca un bel pallone per Taremi, che poi la dà Correa, sull'occasione dell'1-0, mo' che mi sto ricordando, e poi c'era un altro difensore che non ricordo, però la difesa era un po' accrocchiata, no? E nonostante ciò comunque veramente tanto lenta anche di comprendonio. A questo punto però voglio parlarvi di un giocatore, che non è male per niente ragazzi, che ha delle belle idee, che ha dei bei ritmi, un giocatore di cui non abbiamo ancora parlato, ed è il terzo giocatore che mi dà il terzo spunto di riflessione del video riguardante l'Inter, della parte Inter, ovvero Berenbrook. Ragazzi questo Berenbrook, giovani della primavera dell'Inter, è bellissimo da vedere, è proprio bello da vedere, cioè non male ragazzi, ha un'intensità importante, ha dei ritmi importanti, ha delle idee molto valide, e io mi domando e dico come sia possibile che questo Berenbrook, ora io mi auguro che mi sbaglio, che io mi sbagli, mi auguro che tra sei mesi parleremo di un giocatore che giocherà con grande continuità, però questo Thomas Berenbrook per quanto mi riguarda ha già grandi possibilità di mettersi in mostra e di giocare, non dico tra i titolari, ma poco ci manca. E su questo voglio dire una cosa, che Berenbrook, Thomas Berenbrook, è italiano. Quindi, me lo fate giocare per favore? Mi iniziate a far vedere Berenbrook, 19 anni? Perché ora io l'ho visto in un amichevole, gli amichevoli mentono, l'anno scorso degli amichevoli Luca Romero del Milan sembrava un fenomeno, poi ha fatto zero presenza in tutto l'anno praticamente, non ha fatto qualcuno, ma 5-6 le ha raccorte col cucchiaino praticamente. Però, però, se poi non lo fate giocare, e grazie, e grazie. Vabbè, comunque poi l'Inter la pareggia perché Taremi fa tutto lui, eh. Dopo l'Apolassist si prende un calcio di rigore anticipando il difensore di testa che la tocca di mano, batte il rigore e fa gol, quindi fa il 2-2. Poco dopo fa il 3-2, sempre lui ammazza, ha fatto tutto lui scatenatissimo, lo fa sul contropiede, lo fa facendo lo scavetto al portiere, però qua voglio dirvi una cosa, come lo fa? Lo fa su un pallone bravissimo, bellissimo, in profondità, che arriva dai piedi di Berenbrook. E anche qua vediamo l'intelligenza del centrocampista, che dà questo pallone, dal mio punto di vista, bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo, a Taremi, che poi porta il gol del 3-2. Quindi, spunti di riflessione, vabbè, Martinez in porta, ma ne abbiamo veramente pochi, quindi più che altro la difesa dell'Inter tutta ferma, Taremi scatenato, Berenbrook da considerare e da valutare. Il Napoli batte 4-0 la Naune, del Val di Non, il Val di Niente, lo batte 4-0, tra l'altro si sta alzando il livello della Naune, no? Tipo 3 anni, 7 anni fa 17-0, 6 anni fa 15-0, poi 12-0, 10-0, 8-0, 7-0, siamo 4-0, tra qualche anno vincerà la Naune contro il Napoli, però vi dico che ero molto curioso del primo, primissimo Napoli di Conte, questo era il primissimo Napoli di Conte, avevo tanto interesse nel vederlo, ma perché era anche, ad esempio, la prima difesa 3. Inizia Conte a darci delle indicazioni, perché è vero che è un test, è vero che è il primo test amichevole, è vero che siamo a luglio, è vero che i nazionali non sono ancora tornati dalle vacanze, è vero che è la Naune, la squadra che affronti, però è anche vero, dal mio punto di vista, che la difesa 3 non era scontata, perché non sappiamo ancora bene se Conte sceglierà la difesa 3, quindi 3-4, 3-5-2, 3-4-3, oppure il 4-3-3, 4-2-3-1, cioè c'era ancora grosso dubbio su cosa avrebbe scelto Conte, e invece iniziamo a capire un po' di cosine. La difesa 3, dal mio punto di vista, è uno spunto di riflessione della parte del video del Napoli contro la Naune, perché? Perché la difesa 3 vuol dire un tipo di calcio-mercato, vuol dire un tipo di costruzione di gioco, vuol dire un tipo di idea, vuol dire un tipo di nuovo sistema tattico del Napoli, cambia tutto tra la difesa 3 e la difesa 4. Chi mi è piaciuto tanto è Politano, Politano due anni fa era quasi ai limiti del... cioè nel senso giochi chiava, con Spalletti ha vinto lo Scudetto, ma non è che avesse fatto granché, se non sbaglio 3 gol e 3 assist, una cosa del genere, e si alternava con Lozzano. Lo scorso anno ha fatto il devasto per tutta la stagione con in panchina prima Garzia, poi Mazzarri, poi Calzona, ma ha fatto principalmente le buche con Garzia. Arriva Conte, rimane al centro del progetto, nel centro del gioco da subito, anche con Conte, io vi dico che secondo me continuerà ad esserlo. Giocatori come Politano piacciono tantissimo a Conte, c'ha quelle caratteristiche, lì credo che il tecnico è pugliese, Salentino, pugliese, 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 stavo ragionando, è pugliese, è del Salento tra l'altro, sia uguale, la stessa cosa, non so perché stavo pensando a Salernitano, Salentino, lo utilizzerà tanto, e mi piace perché? Perché Politano è stato utilizzato, vi ricordate, ve la butto là, tra l'altro un ex giocatore anche del Napoli, tra le altre cose, vi ricordate quando Conte prese la nazionale italiana, che era una nazionale mediocre, c'era davanti Pellezza, eccetera, e fece molto bene, c'era un giocatore che sorprese enormemente, era il Giac, Giaccherini, Giaccherigno, ora il modo di giocare del Giac, di Giaccherini, a Napoli, solo a Napoli ce l'ha avuta sta roba qua, era quello di giocare tra le linee, cioè lui era un libero in attacco, cioè si muoveva dove cazzo gli pareva, non aveva un ruolo, cioè io non so dirvi il sistema trattico che ha fatto il Napoli, perché non so dirvi il ruolo di Politano, una volta si trovava a destra, un'altra si trovava a sinistra, un'altra si trovava a tre quarti, e una volta si faceva venire a prendere il pallone, una volta andava sulla profondità, ogni volta Politano era in un ruolo diverso, e secondo me questo è un ruolo che ripeto faceva fare a Giaccherini al tempo, potrebbe essere un'idea vincente dal mio punto di vista per la nuova stagione, quindi fate attenzione perché secondo spunto di riflessione, Politano potrebbe fare veramente molto bene in questa stagione. Altro spunto di riflessione, Lindstrom, che merda anche nell'amichevole contro la Naune, poi ripeto è un'amichevole, va visto, va valutato, va aspettato, è un anno che il Napoli lo aspetta, però lo scorso non giocava fuori ruolo, mi è sembrato appannato anche nell'amichevole del Napoli contro la Naune, la Naune, la Launane, non so come cazzo, ora la tipo non c'è comunque contro il Val di Nonne, mi sembrava appannato anche contro il Val di Nonne banalmente Lindstrom, ho paura che il suo essere un equivoco tattico e l'essere arrivato a Napoli con l'idea di essere un equivoco tattico possa in qualche modo portare il calciatore a non esprimersi mai al top della forma, non arrivare mai all'idea di essere un signor calciatore per il Napoli e ho l'impressione che o se ne va, tipo se va all'Atlanta con De Gedelaire al posto di Kupemainer se fa le buche lì, oppure ho paura che anche Conte non possa riprenderlo al Napoli. Poi siamo all'inizio, c'è un amichevole, abbiamo visto Napoli Val di Nonne, cioè non possiamo giudicare Lindstrom da Napoli Val di Nonne, che è distrutto, ma non possiamo dire che Taremi è un fenomeno per Interlugano. Però iniziamo insomma a darci delle idee, delle indicazioni per quella che sarà la prossima stagione. Ho visto bene Zambo nei movimenti, nelle idee, ho visto molto bene Zambo anche nell'elasticità, ho fatto un paio di cose molto molto interessanti, credo che siano cose da non sottovalutare, perché nell'ultima stagione Zambo era tanto in difficoltà, e invece lo vedo molto voglioso con Conte. Poi è vero che la voglia fa tutto nel calcio, è vero che come cazzarola si dice, gli stimoli, diciamo gli stimoli fanno veramente tutto nel calcio, quindi essere allenati da Conte per Zambo è uno stimolo sicuramente molto molto importante, però io l'ho visto molto bene. E poi ho visto un Cheddira scatenato, che ha fatto un gol e due assist, che quindi ora è tornato dal prestito dal Bari, no dal Bari, Bari l'ha fatto anni fa, era il Frosinone, è tornato anche Foloruncio tra le altre cose, che poi era partito con l'Italia all'Europeo. Io vi posso dire ragazzi, se Simeone parte, io Cheddira me lo terrei. Cioè io perché devo dar via Cheddira se Simeone parte? Io me lo tengo molto volentieri, Cheddira, me lo metto lì in panchina di quello che sarà l'attaccante del Napoli, lo capiremo molto presto con l'addio di Vittorosimani, che sembra sia destinato ad andare via. Mi prendo una punta forte, però che Dira, ma vabbè ha fatto un gol e due assist contro la Naune, col Val di Nonna, non è che sia così tanto rilevante per la sua permanenza a Napoli, però devo dire che comunque inizio a vederlo in un'ottica differente, cioè inizio a vederlo con una modalità sicuramente diversa. Roma Latina 6 a 1, questo è l'ultimo amichevole di cui parliamo, però rimanete perché chiaramente è l'amichevole della mia squadra e ho tante idee anche qua. Io quest'anno dirò tutto, cioè io quest'anno lo faccio sempre, però quest'anno voglio non avere peli sulla lingua, voglio dire quello che penso, anche al costo di fare figuracce. Io credo che potremmo aver visto tre amichevoli di tre squadre, non per le amichevoli chiaramente, che potrebbero arrivare in Champions League quest'anno, compresa la Roma, che secondo me, ora magari dico una cazzata, e sono molto curioso di vedere quest'anno la Roma, perché secondo me con De Rossi, partendo da principio, può fare molto molto bene. Poi è chiaro che, se ti focalizzi sulla Coppa Italia, se ti focalizzi sull'Europa League, c'è il rischio che qualcosa perdi per strada, a meno che non ti allunghino la rosa enormemente, ma dubito che la Roma abbia quella possibilità economica di farlo. Quindi ho punti molto sui giovani, che dovresti farlo, adesso ci arriviamo anche, e quindi li responsabilizzi, e li fai diventare carte valide per giocare, oppure è difficile che tu abbia una rosa lunga, da stare dentro a tre competizioni, comunque molto impegnative, c'è la Coppa Italia è la meno impegnativa, ma comunque affronti il Milan, l'Inter, la Juve, il Napoli, la Lazio, l'Atalanta, il Bologna, non è semplice per niente, poi dipende anche di chi te capita, però insomma, più o meno quelle sono le squadre che possono vincerla sulla carta. Però secondo me quest'anno la Roma con De Rossi in partenza potrà fare molto molto bene, e ho il sentore che possa anche un po' sognare di arrivare in Champions League, più che sognare diciamo, possa anche arrivarci in Champions League, ma ci arriviamo pelo pelo, ora ne parliamo. Partiamo da una cosa che io non capisco, Joao Costa, Joao Costa sempre illuminante, sempre, e io non riesco a capire perché di Amine non abbiamo mai il coraggio di far giocare Joao Costa, abbiamo fatto anche un amichevole, ricordo, appena è arrivato De Rossi con l'addio di Murigno, contro una squadra dell'Arabia Saudita, abbiamo fatto un amichevole, quindi sei mesi fa, e ha giocato Joao Costa, e ha fatto i buchi per terra, ha fatto i buchi a terra, ogni volta che la Roma mette in campo Joao Costa in amichevole fa i buchi a terra, è chiaro che il livello del Latina non è il livello magari di giocare anche con un Empoli, non è il livello di giocare magari con un Udinese, è chiaro, però quanti danni ti potrà mai fare Joao Costa se lo fai giocare? Io dubito fortemente che ti crei dei danni, Joao Costa, al massimo non ti garantisce un surplus, non ti dà un plus, ma non puoi dirmi che ti fa dei danni, e allora perché non lo proviamo? Perché non proviamo a rendere Joao Costa un'alternativa validissima ai nostri titolari? Non riesco a capirlo, anche nell'amichevole contro il Latina l'ho visto tanto illuminante, andiamo sotto 1-0, tutti fermi, solita difesa della Roma immobile, Ercolano manda al bar, mannaggia tutto, Sangaré, io penso che veramente, questo è appena arrivato, c'ha 16 anni, ma cominciava malissimo, era fermo come un tacchino, ha perso 12 rimpalli, ha mandato in porta Ercolano, poi non ha segnato Ercolano, ha segnato un altro, ma Sangaré fermo, immobile, andiamo sotto, boh, io ho sempre paura, non capisco perché quando arrivano da noi i terzi ne sono tutti rincoglioniti, poi vedremo, ripeto, c'ha 16 anni, quindi è un bambino, però non lo so, non lo so, pareggiamo sul rigore nettissimo, con Di Bala che lo centrano, va dal dischetto, lo batte, spiazza il portiere 1-1, poi dopo poco arriva un altro calcio di rigore, sempre per noi, perché Solbacca, in area di rigore, se ne va benissimo, bravissimo, doppio passo eccetera, viene trattenuto, rigore netto, scappa via, lo batte, fa 2-1, ora io voglio darvi uno spunto di riflessione su Solbacca, ripeto, è Roma Latina, non è che possiamo stare a fare, ma a parlare di massimi sistemi su Solbacca, che ha distrutto il Latina, che cazzo se ne frega del Latina, però, io non vorrei, anzi vorrei in realtà, che Solbacca con De Rossi iniziassi a fare un pochino meglio, siamo in estate, però pareva proprio anche lui lucido, pronto, adatto, adatto, sembrava adatto Solbacca, cosa che nell'ultimo periodo, cioè che quando è stato aggiunto alla Roma, non è mai sembrato, non mi è mai sembrato adatto Solbacca, nella gara contro il Latina, nel suo debutto, con De Rossi in panchina, se non vado errato, perché prima non ha mai aggiunto, sembrava adatto, ora è nata già in Giappone, quindi non è quanto possa, non so quanto possa aver imparato in Giappone, Solbacca, però sinceramente io, voglio vederlo, me lo guarderei un po' per questa preparazione, perché comunque se ti andai a prendere un panchinario in avanti, comunque tu già c'hai Di Bala, c'hai Baldanzi, c'hai El Sharawi, io un Chiesa lo prenderei, magari ti arriva a Chiesa o ti arriva sull'E, fai già a Riccio Acosta, comunque Solbacca nel gruppone lo terrei, poi è chiaro che deve dimostrare tanto, però è a zero, nel senso è tuo, ce l'hai lì, perché devi andare a venderlo a 100.000 euro, 800.000 euro, un milione, per poi andare a prendere un altro Solbacca, sperando che ti faccia bene, non è che sono troppo d'accordo con questa visione, sono molto più per il valorizzare i miei giovani, o comunque i miei giocatori, perché Solbacca non è più giovane, cioè è in pieno della carriera, e non sta dimostrando di poterlo essere, poco dopo Di Bala prende un altro palo, io faccio anche un'altra riflessione su Di Bala, la faccio spesso, ultimamente molto spesso ai miei amici, la faccio anche a voi, adesso, io ho l'impressione che Di Bala, poi magari dico una cazzata, magari domani se ne va, ad alti livelli chiuda a Roma, ho proprio questa impressione qua, perché si trova bene, perché ha coccolato, perché stava bene con Murigno, perché ha trovato con De Rossi la giusta alchimia, ad alti livelli, cioè se domani dovesse arrivare, che ne so, il Bogo e il River, non so lui che cazzo di fena argentino, dovesse arrivare una squadra tipo l'Inter-Majemi, o dovesse arrivare magari una squadra saudita, quello è un altro conto, però secondo me in Europa, Di Bala chiuderà a Roma, ma perché i suoi soldi li prende, è amato tantissimo, lui ragazzi è uno di quelli tipo dei meme, che tocca il palone, lo alza, cioè tutti tipo così stiamo, siamo tutti super fomentati da Di Bala, tutti innamorati, tra l'altro, sua moglie, credo siano sposati, Oriana, si sta facendo una carriera musicale a Roma, e sta trovando qui giusti a Ganci, in Italia, eccetera, quindi per me, ci sono grosse possibilità di Di Bala chiuderà, e poi lo vedo anche lucido, cioè da un anno a questa parte, lo vedo proprio che ci tiene tanto, 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 a far bene alla Roma, quindi secondo me questa possibilità c'è, poi prendiamo un altro palo con Pisilli, che poi tra l'altro proprio Pisilli fa il 3 a 1, dopo 2 miliardi di passaggi, devo dire che giochiamo, ripeto, è in latina, però devo dire che giochiamo bene, tanto frasegio, tanti passaggi, tanti movimenti, tanta roba devo dire, De Rossi continua quel diktat lì di giocare bene, certo in fase difensiva quando ci attaccano andiamo in palla, e questo è fattuale, non è che mi sto inventando nulla, però devo dire che comunque giochiamo discretamente bene, prendiamo un altro palo da fuori, e 4 pali abbiamo preso assurdo, poi però facciamo gol con Le Fee, allora a parte che sul gol di Le Fee, Sangaré si addormenta con pallone tra i piedi, scivola, io lo torgo, non sa che fine fa, ripeto, non voglio iniziare ad attaccarmi a Sangaré, però il poco che ho visto nell'amichevole, mi ha fatto cagare offensivo e difensivo, però vabbè magari sbaglio io, poi lo vedremo insomma piano piano, magari mi sbaglio io, il debutto ce sta e ok, sono più concentrato magari invece su Le Fee, che fa un gran gol, tira d'esterno da lontano, un pallone che gli arriva proprio sui suoi piedi, come a dire dai, fai gol e lo fa, troppo poco per giudicare Le Fee, troppo poco per dare il mio giudizio, secondo me ve lo dico proprio chiaramente, lui o farà benissimo o farà malissimo, io non credo che sarà uno di quei giocatori che si fermerà nel mucchio, no? Cioè per me è tipo il nuovo Pjanic della Roma, e quindi tanta tanta roba, ha già Pjanic, o è tipo Pastore, cioè è un giocatore molto lezioso, no? Molto di qualità, molto di idee, di tocco di fino, quindi o fa tanto bene, che è tipo, fa come i piani, cioè come Di Bala, oppure fa veramente tanto male, ho paura perché l'hai pagato tanto, però lo valuteremo. Vi ho visto un po' anche Almaviva, che è quello a cui Totti diede la fascia quando era un bambino, e adesso è diventato uomo, ed è stato aggregato con la prima squadra, quindi voglio vederlo, fa anche una bella conclusione, mette un bel pallone in mezzo, anche lui spero che De Rossi lo farà giocare tanto, io mi auguro che quest'anno che sta arrivando, sia all'insegna dei giovani, cioè che facciamo giocare i titolari, ma che i giovani, tipo Joe Costa, faccia comunque, 7-8 partite a titolare, e 10-15 in cui entra dalla panchina, mi auguro che Pisilli, giochi almeno 12-13 partite a titolare, e ne faccia almeno una decina dalla panchina, cioè mi auguro che tutti questi giochi, chiudano a 25 partite, Almaviva, mi auguro che una quindicina di partite, anche quei 2-3 minuti, li faccia, Sangaré, per quanto non l'abbia visto partire benissimo, che ha 16 anni, mi auguro che giochi con continuità, non titolare, ma con continuità, 6-2 a 0 avanti, e lo buttiamo dentro, lo facciamo giocare, facciamogli accumulare i minuti, che magari fa una gran giocata, prende fiducia, butta un pallone e mezzo, fa assist, 16 anni se ne inizia a parlare, magari ti dice pure bene, fa un paio d'assist durante l'anno, a fin anno lo vendi a 40 milioni, perché arriva il matto dalla Premier, che questo c'è a 16 anni, e giocati a tornare nella Roma, boom, cioè è una cosa che io andrei a fare, quindi cerchiamo di fare questa cosa qua, e un giocatore che mi ha impressionato, altro spunto di riflessione, a sorpresa, è Darboe, che quando l'avevamo visto con Murigno, mi pare con Murigno, pareva un sacco di patate, nella gara di ieri, l'ho visto fare una bella giocata, l'ho visto fare, sia in fase offensiva, ma anche in fase di recupero, andava cattivo, recuperava un botto di palloni, anche lui uno di quelli che abbiamo gestinato, che non ci piaceva, che non avremmo voluto vedere, e che abbiamo dato via in prestito, al primo acquirente, però l'ho visto bene, l'ho visto bello pronto, poi ripete, calcio d'agosto, però voglio valutarlo per il ritiro, perché anche lui, come quinto, sesto di centrocampo, quella gente lì, che sono i nostri giovani, i nostri seconde linee, potrebbero farci molto comodo, per allungare la rosa, e per non arrivare a fare, quarto di finale d'Europa League, siamo quarti in campionato, siamo i quarti di Coppa Italia, ed arrivare i sesti in campionato, uscendo dall'Europa League, uscendo dalla Coppa Italia, perché giochiamo con i stessi 15, 14, iniziamo a dare valore, ai Darboe, ai Suelbacchene, ai Sangaré, ai Pisilli, cioè a questa gente, che sono delle seconde linee, ha preso un palo anche Smalling, confido a tenerlo, vi dico la verità, perché il discorso è che, voi mi direte, vabbè Sicca, ma ti tieni Darboe, non ti tieni Smalling, Smalling parte e prende 10, 100 volte le prende Darboe, ma al di là di questo, Smalling se lo tieni, lo tieni per fare il titolare, non è che lo tieni per fare il Darboe, Darboe pur se gli fa fare 10 partite in tutto l'anno, è sempre partita in corso, ma che te si incazza, c'è un ragazzino, sta lì, si costruisce, va bene, Smalling quella cosa lì, non gliela puoi far fare, e se tu me lo prendi come titolare, i miei punti come titolare, e questo me si rirompe tutto l'anno, c'ho un altro enorme problema, come c'ho avuto quest'anno, e non so se voglio andare incontro a quel problema lì, il 5-1, il 6-1 lo fa Graziani, una doppietta di un ragazzetto, non lo conosco, l'ho visto poco, ha fatto doppietta, lo vediamo nella prossima amichevole, visto che è la prima volta che lo sento, e lo valuterò nella prossima amichevole, il problema della Tine è che giochi chi ha troppo al limite, molti palloni ce l'hanno regalati loro, poi noi comunque giochiamo discredemente bene, però molti palloni ce l'hanno tipo, tiè e fagò, e chiaramente è una cosa che non li può aiutare, ecco diciamo così, questo era il mio punto di vista sulle tre amichevoli, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, se non l'avete ancora fatto, io vi ringrazio, tantissimi piaciuti, buon scelalala, ciao!